Allora, sono Fulvio Ieva, vicepresidente del MUPI, Museo Piemontese dell'Informatica. Ho presentato questo progetto che è una commissione fra retrocomputer, musica, moderno, passato, cultura musicale, studio dell'informatica, diciamo che c'è un po' tutto quanto, è divertimento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito quello che è un basso elettrico con un Commodore 64 e l'abbiamo fatto suonare con un suono tipico dei computer dell'epoca, a 8 bit. L'abbiamo reso pubblico e ci auguriamo che tutti quanti partecipano ad arricchire questo progetto con ulteriori studi, informazioni e si divertano anche loro a costruire questo giocattolo come abbiamo fatto noi. Grazie a tutti.